Il comune di Arezzo corre ai ripari e riattiva tutti i servizi per cercare di alleviare il più possibile i disagi degli aretini che sono attualmente in quarantena. Il comune capoluogo è quello che in queste settimane ha registrato il numero più alto di positivi, attualmente ci sono circa mille persone positive e 5.000 in quarantena. Ad intervenire il vice sindaco, Lucia Tanti, siamo nuovamente in emergenza sanitaria, dice, ma anche logistica. È in questo segmento dei servizi secondari che il comune di Arezzo comunque in continuità dall'inizio della pandemia nelle ultime settimane ha ripreso a pieno ritmo a rispondere alle tante richieste di assistenza che vengono dai cittadini. I nostri uffici della protezione civile e del servizio ambiente lavorano instancabilmente fornendo un aiuto concreto a coloro che si trovano in isolamento, adoperandosi con Croce Rossa e Sei Toscana per provvedere al recapito dei medicinali e della spesa alimentare e per segnalare una raccolta di rifiuti. Il vice sindaco va anche oltre e si mette a disposizione della cittadinanza. Il mio numero è sempre rimasto attivo, affermala tanti, ma ricordo agli aretini che possono segnalare le loro difficoltà inviando un messaggio al 345 0800 400.